Il mondo intorno a te, parla, ascoltalo, fallo con gli apparecchi acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni, 379 16 65 428. Tuffo nel passato lo scorso fine settimana, Darfo Borio Terme, dove il Vespa Club Pisogna, a poco più di 60 anni di distanza, ha organizzato la seconda edizione dell'Audax, gara di regolarità unica che venne disputata il 12 giugno del 1960 sotto la regia dell'allora Vespa Club Valle Camonica Buorio Terme. Un evento dove nulla è stato lasciato al caso e a partire dal Parco delle Terme, teatro dello start della punzonatura, ha coinvolto 130 partecipanti provenienti da tutta Italia e da 20 nazioni straniere. A dare il via alla manifestazione, presenti anche Luigi Vezzoli e Gian Antonio Bertenghi, piloti che corsero in sella ai loro mezzi, l'Audax del 1960. Il Vespa Club Pisogna nasce nel 2015 e da ora abbiamo circa 150 soci. Siamo molto attivi sul territorio a livello turistico con gite e raduni e ormai dal 2017 abbiamo fatto con una squadra corse e partecipiamo a gare di regolarità. Ci siamo detti 1960-2020, 60 anni, non possiamo non rievocare questa manifestazione e lì è partito il nostro grande lavoro. Per il sessantesimo dobbiamo fare questa grande festa e purtroppo in 2020 non abbiamo potuto farlo, il 2021 ci poteva fare ma non fare quello che volevamo fare noi e allora ci siamo presi ancora un anno e adesso eccoci qui. 130 vespe rigorosamente costruite entro il 1960, tutti i partecipanti con una tuta bianca come avevano partecipato nel 1960. Ci sono 130 Vespisti da tutte le regioni dell'Italia e anche 20 stranieri. I concorrenti staccati di 30 secondi si sono diretti a Pisogna e dalla Valpalò hanno raggiunto Colle San Zeno, Maniva, Croce Domini e poi Bienno, Schilpario e Malonno. Di seguito il rientro da Montecchio per l'ultima prova di regolarità e infine la passerella in piazzale Naudi di Buario Terme di fronte ad una folla festante. Grazie a tutti.